maturando un podcast dedicato a tutti gli studenti a tutte le studentesse che preparano l'esame di stato oggi ci occupiamo di august comte uno dei massimi esponenti del positivismo nato a montpellier nel 1798 e morto a parigi nel 1857 august com nasce in una modesta famiglia cattolica e frequenta la prestigiosa ecole polytechnique di parigi a 19 anni conosce sen simon di cui diventa amico e addirittura segretario august com scrive da giovane le sue prime pubblicazioni causano però gravi dissidi con il con il maestro sino alla rottura definitiva brusca avvenuta nel 1824 in seguito cade in una profonda crisi nervosa cade in una profonda e radicale crisi di nervi tenta addirittura il suicidio e passa alcuni mesi in un manicomio e rinchiuso in un manicomio riesce a riprendersi e comincia a lavorare a scrivere e poi a pubblicare il corso di filosofia positiva in sei volumi pubblica il corso di filosofia positiva in sei volumi dal 1830 al 1842 ma l'ostilità degli ambienti accademici provoca il suo allontanamento dall'école è ridotto a vivere direzioni private nel 1845 colpito una seconda crisi nervosa dalla quale esce grazie all'amore di clotilde vao la donna che prende il posto e la moglie da cui si è separato nel 1842 che però morirà appena trentenne nel 1846 clotilde sarà anche l'ispiratrice della seconda fase della filosofia di comte fase caratterizzata da una trasformazione della filosofia in religione il critico della metafisica e della religione nella seconda fase giungerà a posizioni religiose negli ultimi anni di vita compone il catechismo positivista e il calendario positivista che uscirà nel 1860 con gli scienziati al posto dei santi e clotilde sacerdotessa del grande ente la svolta religiosa è una svolta che richiama in parte gli elementi del deismo illuminista istituisce un vero culto della ragione di cui comte si autodefinisce pontifice quello scopo della filosofia per con ci siamo di capire insieme ma con pensa che sia indispensabile rinunciare alle strati ipotesi metafisiche dell'idealismo e fondare sul metodo scientifico una filosofia la filosofia non dovrà più tentare di elaborare astruse e vane concezioni generali dell'essere ma deve riconoscere l'unità del sapere umano deve andare alla ricerca dell'unità del sapere umano e vi deve unificare le scienze già esistenti ed applicare ad esse il metodo scientifico dunque in tutti gli ampiti il metodo scientifico potrà portare progresso potrà portare alla verità il cuore del positivismo di con è dato dalla legge dei tre stadi la legge dei tre stadi e comte osserva l'umanità osserva la storia dell'umanità della vita degli individui come singolo uomo anche l'intera umanità così l'umanità come il singolo uomo nel suo sviluppo intellettuale collettivo attraversa tre fasi c'è un parallelismo per contra la storia di un individuo la vita di un individuo e la vita la storia della comunità dell'umanità della comunità mondiale una fanciullezza in cui dominano l'immaginazione la fantasia c'è nel bambino c'è nell'individuo c'è nella umanità poi c'è un'adolescenza ribelle distruttiva c'è nell'individuo c'è nell'umanità e poi c'è una maturità che ridimensiona gli slanci tipici dei due stadi precedenti e aspira all'ordine la storia all'armonia la razionalità e dunque questa fase di maturità c'è nell'individuo la storia individuale c'è nella storia dell'umanità a livello di storia dell'umanità il primo stadio è quello debito teologico fittizio poiché è quello primitivo gli uomini cercano le cause ultime dei fenomeni abbandonandosi all'immaginazione alla fantasia ricorrono a interventi magici a divinità forze spirituali e a questa fase corrisponde una società fondata di fatto sulla schiavitù sulla guerra sulla violenza dunque un governo teocratico militare la fase della fanciullezza corrisponde una fase appunto dell'umanità teologico e questa fase teologica è caratterizzata da violenza da superstizione da guerra poi c'è il secondo stadio quello dell'adolescenza che è un stadio metafisico astratto che si configura come un periodo di transizione dunque alle spiegazioni di origine mitica seguono quelle più astratte della filosofia e dunque la società in questo caso è caratterizzata dall'affermarsi dell'individualismo dell'egoismo dunque della dimensione atomizzante individuale e dunque allo stadio dell'adolescenza corrisponde allo stadio dell'umanità della metafisica è la società appunto disordinata a causa dell'atomismo la terza fase quella della maturità in ambito dell'umanità il terzo stadio è quello scientifico positivo ecco il positivismo che recupera gli ideali di bacone di cartesio di galileo e della maturità dell'uomo equivale alla maturità dell'uomo la ricerca delle cause assolute universali della verità lo studio dei fenomeni è sostituita da una conoscenza fondata sull'esperienza sull'osservazione sul calcolo sulla ragione sul metodo e dunque si cerca il perché delle cose no si cerca come funzionano non è più il fine delle cose ma è la causa delle cose funzionamento delle cose e la spiegazione dei fenomeni che caratterizza l'età appunto scientifica e la conoscenza di queste leggi non ha un fine astratto bisogna vedere per prevedere conoscere per costruire cambiare meglio il mondo e dunque l'azione per conto è finalizzata al benessere collettivo ed ecco qua che giungiamo alla classificazione delle scienze la legge dei tre stadi si applica anche alla classificazione delle scienze secondo com si dispongono in una gerarchia che vada al più semplice al più complesso e passa tutte le fasi di sviluppo che abbiamo appunto visto quella della fanciullezza delle scienze maturità ovvera ovvero della teologia della metafisica e della scienza al gradino più basso il filosofo colloca la matematica la scienza più semplice più generale alla base di tutte le altre come per gallileo anche per ovviamente comte matematica e linguaggio delle scienze poi vengono l'astronomia la fisica la chimica che sono degli oggetti più semplici i corpi bruti e hanno oggetto dunque lo stadio positivo poi c'è la biologia e la sociologia che sono dei corpi più complessi dunque i corpi complessi della vita biologia i corpi più complessi dell'organizzazione sociale la sociologia e persistono appunto nello stadio queste nello stadio appunto della della metafisica biologia e sociologia persistono nello stadio perché metafisico sono ancora teorie astratte sono ancora teoria e astratte teoriche teoriche astratte dunque c'è una crescita ma in questo caso la fase metafisica e la fase scientifica in parte si compenetrano però c'è un intento poi in con molto evidente quello dell'unità delle scienze le scienze procedono e vanno verso l'unità la fisica sociale la sociologia e la scienza più alta perché la fisica sociale studia i corpi sociali cerca del coro studi corpi sociali studia l'ordine studia i meccanismi di produzione di ordine e si divide la sociologia in stati che è dinamica la prima si occupa di studiare l'ordine sociale le istruzioni strutture economiche quello stato del mercato e il rapporto fra appunto società e ambiente dunque rapporto società ambiente circostante e cerca di capire i legami armoniosi o diffidenti e invece la fisica dinamica studia il progresso e l'evoluzione della società secondo la legge dei tre stadi dunque la fisica dinamica si occupa dell'evoluzione della società l'obiettivo di Comte è quello di raggiungere la società perfetta proprio la sociologia in quanto scienza cerca di offrire gli strumenti per arrivare a una società perfetta a rendere una comunità umana una comunità perfetta senza contrasti politici economici fatta su una rigorosa e giusta divisione dei compiti sull'efficienza sulla razionalizzazione delle mansioni degli spazi e dunque questa nuova società deve essere guidata da un'elite un'elite di scienziati e di tecnici una comunità che garantisca a tutti un livello alto di benessere di conoscenza che tenda al perfezionamento sociale perfezionamento sociale da cui deriverà il perfezionamento spirituale la spiritualità l'interiorità degli uomini delle donne è data dalla grandezza dalla organizzazione poi razionale della società migliora società migliorano gli uomini le donne che migliora la spiritualità e la filosofia qua diventa religione ma l'oggetto in questo caso di culto non è dio ma è l'umanità nel corso di filosofia positiva si giunge alla fine a questa religione dell'umanità il grande essere l'umanità che va venerata va studiata capita va migliorata ogni uomo è legato al passato tradizione alla storia però è proiettato verso il futuro e vivendo nel presente dunque per continuare a esistere bisogna guardare al passato costruire il presente e proiettarsi nel futuro questa è la prospettiva filosofica e il positivismo di com fa la scuola sono tanti poi i positivisti che cresceranno lungo il sentiero tracciato da august conto l'uomo che ha riposto nella ragione una fiducia smisurata una ragione in grado di migliorare la società e migliorare di conseguenza gli uomini e le donne migliorare l'organizzazione sociale per migliorare l'organizzazione spirituale senza spirituali august conto è sicuramente il grande vecchio il grande padre del positivismo europeo